Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio, profumato, gustoso e soprattutto analcolico. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satiro, liquore pineta, bernut pita e liquore fore, ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro Fioru! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, ti invito a dare un'occhiata anche agli altri nostri canali social sempre con il nome Il Giardino sotto il Naso, sia Instagram che Facebook, ti invito anche a dare un'occhiata sempre alle tutte le descrizioni dei nostri video dove trovi, a parte insomma gli highlights di quello che viene detto durante il video, anche eventuali aggiornamenti, ma ora addentriamoci in questa ricetta. In realtà il nome originale di questo drink sarebbe stato fiorabile in realtà, anche se suona male, perché in realtà la scelta dei fiori è 100% personalizzabile. Ho deciso di creare questo drink per una donna, però è perché insomma ha questo gusto un po' dolciastro, un po' diciamo floreale, però è chiaro che ognuno poi ha i propri gusti e quindi va benissimo un po' per tutti, diciamo se a te piace il gusto di fiori e il gusto dolciastro, questo qui è un drink perfetto, da preparare chiaro non solo per sé, ma magari anche se vengono delle amici e delle amiche a casa, oppure nel tuo locale puoi prepararlo tranquillamente. In cosa consiste questo drink? Fondamentalmente andremo a mettere tre parti, sono tre sciroppi di fiori, c'è il fiore di sambuco selvatico, del quale insomma in realtà è uno sciroppo di fiori di sambuco selvatico che ho già registrato la ricetta, quindi se te la sei persa la puoi trovare qui. Poi c'è sciroppo di lavanda, di fiori di lavanda e sciroppo di tiglio, quindi sono tre fiori molto delicati ma che hanno un profumo veramente interessante e tutti i tre gli sciroppi hanno questo gusto molto interessante. In più andremo a dargli, per non renderlo dolce e stucchevole, andremo a contrastare la parte dolce con del succo di limone, così come ho detto andremo a dargli un pochino di slancio con della gassosa o se vuoi dell'acqua tonica che ha quel leggero retrogusto amarognolo, ma anche qui o anche con della semplice acqua frizzante è perfetto. È chiaro che come ho detto volevo chiamarlo florabile perché poi ognuno ha gli sciroppi a disposizione fondamentalmente, quindi in realtà potresti utilizzarne anche solo uno, però questo è a tua discrezione. Ma procediamo, quindi la ricetta è molto 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 semplice, andrò a mettere circa 5 cl di sciroppo totali, quindi magari vado a mettere circa un cl e mezzo di ogni sciroppo più o meno e andrò a mettere almeno un cl, un cl e mezzo di succo di limone e poi andremo a completare il drink con della gassosa. È chiaro che la mia ricetta è indicativa, poi a seconda del tuo gusto se lo vuoi un po' meno dolce o un po' più acidulo e cose varie puoi chiaramente aggiustare la ricetta un po' a modo tuo. Ho già messo del ghiaccio nel bicchiere, vado a completare il raffreddamento, ok, vado a togliere l'acqua del ghiaccio che eventualmente si è sciolto e vado ad aggiungere un altro cubetto di ghiaccio. Il ghiaccio è chiaramente importante perché rende il drink più bello, lo raffredda quindi ti fa percepire anche di meno quel dolce stucchevole e rende appunto il drink, poi man mano che si scioglie lo diluisce un pochino, quindi sicuramente risulta più gradevole. Quindi andiamo a mettere circa un cl e mezzo di lavanda, un cl e mezzo di tiglio, molto buono anche questo, e circa un cl, un cl e mezzo di sambuco, perfetto, sambuco selvatico dal molise, perché qui in Puglia sambuco, almeno dalle parti nostre, non cresce, un pochino di succo di limone e andiamo a versare della gassosa. In realtà puoi utilizzare, come ti dicevo, un'altra bibita frizzante, però il frizzante aiuta molto perché effettivamente la bollicina che sale su dà la possibilità di mettere in risalto il gusto e il profumo, perché la bollicina dal basso verso l'alto, quando scoppia senti un bel profumo, perfetto. Andiamo a questo punto a dare una mescolata molto delicata dal basso verso l'alto, perché lo sciroppo tende a depositarsi un po' sul fondo. Andiamo ad assaggiare, è perfetto, e se puoi tu a questo punto assaggiandolo puoi scegliere di magari aggiungere un pochino di succo di limone o correggere un pochino, per me è veramente perfetto. Vado a decorare il drink con un fiorellino di lavanda e un fiorellino di finocchietto selvatico, giusto per dargli un pochino di colore, e il nostro drink Fioru è bello e pronto. Chiaro che Fioru, mi sono dimenticato di dirlo, in dialetto leccese significa appunto fiore, ma non era difficile intuirlo. Come al solito andiamo a mettere il nostro sottobicchiere, perché ricordati sempre che un bicchiere servito senza sottobicchiere è un po' come andare in giro senza mutande, ed è un po' un problema. Andiamo a ringraziare il nostro sponsor, che chiaramente fa surle, però non dire a nessuno, Tonino Muzzi e Canuzzoli, che è produttore di albicocche a Reggio Calab dal 1957. E dopo aver salutato il nostro sponsor, mi raccomando, scrivimi nei commenti se e come lo prepari, se fai delle varianti, insomma, in modo da darmi anche magari qualche spunto per delle nuove ricette. Bene, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire, e mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din don, in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non resta altro che dirci, ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao! Grazie!